Ciao a tutti piccoli gloetti! Oggi siamo ritornati qua su Adomi perché finalmente ho finito di decorare la nostra casa stregata! E ma prima di entrare volevo dirvi che voglio innanzitutto ringraziarvi per i vostri commenti sul video precedente e apprezzo a tutti coloro che si sono iscritti al mio canale Bene, adesso entriamo La luce è anche viola per far tema delle streghe Non so Come vedete innanzitutto qua abbiamo una bella entrata E questo disegno ad una grande vlogger che da altro è Miss Vibes Ho avuto un'idea su come farlo, vi dico la verità All'inizio ho quasi, come dire, rinunciato a farlo perché non era così facile Poi ho iniziato a capire un po' le conseguenze e a un certo punto ho fatto Ma anche con costanza e pazienza Alla fine ce l'ho fatta e ovviamente devo spendere un sacco di soldi Ok, allora come vedete qua ho messo delle bellissime luci e delle catene nel tetto Anzi, le soffitto E poi qua abbiamo delle bellissime lanterne e qua dei bellissimi pontrone e dei teschi qua sopra E' un mobbio con i bicchieri E' anche cloetti Ho scritto staccato perché sennò veniva censurato Poi come vedete qua c'è una bella lampata come ho detto con i bicchieri E' un libro e delle piante e un test con delle cadele Qua abbiamo un tavolo con delle sedie E ovviamente qua farò delle pozioni magiche E qua un bellissimo camino Ecco qua Che si può accendere e spegnere Qua abbiamo un altro camino Anzi due E delle catene qua sopra Io ho messo anche una specie di lampadario Qua abbiamo un bellissimo quadro Con una lanterna E una pianta autunnale E due di queste stufette Qua abbiamo una libreria Diciamo Perché non è proprio una libreria Però sì Ci sono dei libri e delle bottiglie Per mettere le pozioni Qua guardate Qua c'è voluto molto più tempo E' stato molto difficile addirittura Poi qua abbiamo un altro tavolo con le padele E non vi faccio vedere di sotto Perché è l'ultima cosa che vi farò vedere Poi qua abbiamo delle piante autunnali E via Qua abbiamo la bellissima cucina Ho messo anche un bellissimo goffo E poi qua della cena per i miei pet E ovviamente i piatti E ovviamente i piatti peadele eccetera Anche il fornello E qua si ritorna all'inizio Poi qua ho messo anche delle lucette E due porte quasi all'entrata Si sale E qua abbiamo una bellissima cameretta Qua ci è voluto tantissimo tempo Ma devo dire che è stato abbastanza facile Poi qua delle candele con Dei bicchieri Qua dove dormirà il mio pet Ovviamente Aspettate che riprendo il mio pet Riprendo il mio pet E voilà Dormi tranquillamente Forse dovevo mettere anche un traio Ma non importa Qua abbiamo un bellissimo letto verde Guardate qui Dormo tranquillamente E dei testi qua sopra Ovviamente un bellissimo cammino E qua dei libri E delle ciotolette Non so perché le ho male Poi qua abbiamo un'altra scritta Cloetti E poi una sedia qua Ci volevo mettere un libro Ma non ci riuscivo Allora Qua poi abbiamo Il bellissimo bagno Ovviamente qua c'è un'altra pianta E qua ho messo una barriera In modo che Qualcuno non entra Qua c'è il lavandino Candele Per far tema E qua tutti gli sciambi E una pianta E un bagnetto E eh eh Mi serve la privacy ovviamente Qua abbiamo finito E la stanza che mi riesce di più E la camera Perché guardate Anche questa Ok ci è voluto molto tempo Allora Se scendiamo Vi farò vedere L'ultima cosa Che vi volevo far vedere Oh 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 Avete già intravisto qualcosa Bene Andiamo a vedere 3,2,1 Woo Totoro totoro Il bellissimo cinema Con delle belle stelle E una statua Delle seggioline E qua ci metteremo il film Ragazzi Ragazzi cosa succede Se noi ci sediamo qua E proviamo a guardare un piccolo film C'è il mio video C'è il mio video Dell'altra volta Dove io cantavo Su Sing2 Fighissimo Beh Sing2 Apparire al 23 Dicembre al cinema Perciò è ovvio Che viene la notizia di me Che vado nel cinema Qua abbiamo delle candele Dentro dei bicchierini Come sempre E qua abbiamo un quadro E guardate qua Tatarara Sotto alle scale Abbiamo un piccolo bar Dove prendere i pop corn O da bere Per andare a vedere Al cinema E guardate Ah vero Poi qua ci potremmo mettere Il film Sing2 Mi raccomando Uscirà il 23 Dicembre Due giorni prima di Natale Bene L'abbiamo un altro Come dire Il quadro Sì Bene E poi andiamo qua dentro E qua c'è un bellissimo bagno Bene Qua abbiamo anche il WC E uno specchio qua sopra Eh sì E' un po' difficile Farsi vedere dalla sopra Ma vabbè Allora Poi se andiamo dall'altra parte C'è una cosa più bella Biliardo Biliardo E queste poltroncine E quadri di giochi Guardate Guardate Ci è voluto molto molto tempo Perché qua sotto Vi sveglia il segreto Ci sono bottiglie e bicchieri Mi piace Così sono i pulsanti Qua Della lucetta E delle E dei bicchierini Ho messo tanti bicchieri Ovunque Per Poi qua abbiamo anche delle stecche Per giocarci Bene Noi abbiamo finito il tour Spero che vi è piaciuta Questa nuova Avventura In casa E noi ci vediamo La prossima volta Con una nuovissima avventura Ciao Muaah Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.